E allarme miasmi nei pressi dei tombini a Bellizzi. A segnalarli è il consigliere di opposizione Angelo Maddalo, che facendo proprio alcune segnalazioni dei cittadini lancia un messaggio all'amministrazione affinché provveda a mettere in sicurezza la rete fognaria. Gli odori sempre più accentuati su Via Roma e in tante altre zone del territorio, sottolinea Maddalo, sono frutto di una manutenzione scarsa, un immobilismo interrotto ogni tanto da brevi strascichi di interventi a pioggia accompagnati da ridicoli selfie e foto di una manutenzione ordinaria che di ordinario non ha nulla. Del problema, conclude Maddalo, interesseremo tutti se necessario, i vigili urbani, il responsabile alla manutenzione pubblica e l'ASL.